Abbiamo visto finora, diciamo, la teoria e l'esemplificazione di come usare Express per creare un server e abbiamo detto che Express può definire della route secondo path specifici e in base al metodo HTTP più la route, il path specifico che viene indicato, questa combinazione di metodo HTTP più percorso fornirà una risposta di qualche tipo. Quello che ci manca da dire è capire se esiste e quale può essere un metodo per definire delle buone pratiche, diciamo così, per definire questi path, questi percorsi da inserire all'interno delle route e quali tipo di richieste e risposte ognuna di queste si può aspettare, non per fornire, come dicevamo prima, pagine HTML, ma per fornire informazioni, dati, in questo formato JSON che abbiamo accennato. Quindi ricordandoci che noi ci stiamo mettendo in questo contesto in cui c'è un'applicazione, che nel nostro caso sarà un'applicazione web, e ci sarà un server in mezzo che parlerà col database o che parlerà con altri servizi, potenzialmente potrebbe anche essere un server che chiede le previsioni meteo e quindi le fornisce in qualche modo, quindi parlerà col servizio di meteo per fornire questi dati, magari uniti ad altre informazioni che il server possiede, e vogliamo capire cosa scrivere in quel route, che livello, quali sono le aspettative, le attese, come progettare quel livello in maniera coerente e seguendo di nuovo delle buone pratiche di programmazione. e quindi quello che faremo è che da una parte avremo un server che avrà delle URL che rappresentano queste route, questi endpoint di servizio, e dall'altra l'applicazione riceverà delle informazioni in JSON, manderà delle informazioni in JSON e quindi bisognerà gestire questi tipi di informazioni, utilizzando HTTP. Allora, dicevamo che chi non conosce, chi non ha mai sentito parlare di JSON? Ok, chi ha una vaga idea di cosa sia JSON? Chi si sente confidente che possiamo evitare le prossime quattro slide su JSON? Ok, quindi lui adesso viene qui e ce la racconta. E no. E allora, velocissimo, non è praticamente complicato. JSON è un formato di scambio dati. È file di testo. Quindi si scrive testo in un formato specifico. È un sottinsieme di JavaScript, della sintassi di JavaScript, per specificare i literal degli oggetti, con l'obiettivo che sia facile sia per le persone da leggere e da scrivere, ma anche sia facile per le macchine da parsificare generale, quindi leggere e scrivere. Ha uno standard, che sempre fa parte degli standard ECMA, in quanto è un sottinsieme di JavaScript, è anche uno standard EITF, e ha un media type specifico nei pacchetti HTTP, che è application JSON. Come è fatto un file JSON? Un file JSON ha, o una qualunque fonte di informazione JSON, ha alcune primitive, dati primitivi, che corrispondono all'incirca con i dati primitivi di JavaScript, quindi ha stringhe, numeri, oggetti, array, vero, falso e null. Queste sono le primitive. Non ha un end-defined, per esempio, a differenza di JavaScript. Ma un qualcosa in JSON può essere o una stringa, ciao, o un numero, tre, oppure un altro oggetto, quindi qualcosa di più complesso di una stringa o di un numero, un array identificato con le parentesi quadre, esattamente come in JavaScript, vero e falso, che rappresentano concettualmente i booleani, e null nel caso in cui non vogliamo identificare un valore specifico. Ma ci serve mantenere quell'oggetto all'interno di quel documento JSON. Gli array si scrivono come parentesi quadre con dei valori separati da virgola, esattamente come in JavaScript, e gli oggetti sono chiave, due punti, valore, virgola, chiave, due punti, valore, potenzialmente all'infinito, con le parentesi graffe all'inizio e alla fine dell'oggetto. E la chiave in un oggetto JSON deve obbligatoriamente essere una stringa. Quindi sarà sempre messa come stringa con il doppio apice, le doppie virgolette, le virgolette aperte e chiusi intorno alla stringa. Quindi questa è una differenza rispetto a quello che potremmo scrivere in JavaScript. In questo caso un oggetto, la chiave degli oggetti, le proprietà principali dell'oggetto, deve essere una stringa con la doppia apice, e non col singolo apice. E le stringhe, come è scritto anche qui, devono obbligatoriamente usare le stringhe, le virgolette doppie, non le virgolette singole. Se no non è JSON valido con la virgoletta singola. E qui c'è un esempio. Vedete, qui c'è un oggetto JSON, che si apre qui e finisce qui. Questo è un intero oggetto JSON, che ha come prima chiave dell'oggetto first name, che è una stringa, virgolette doppie, e ha come valore un'altra stringa. Poi ha un last name che ha la sua proprietà, esattamente come prima, entrambe stringhe. Poi c'è la proprietà indirizzo, che è sempre una stringa con le virgolette doppie, che come valore ha questa volta un oggetto. Quindi non una stringa, ma un qualcosa di più complesso, che è un oggetto. Come fatto l'oggetto? Esattamente come quello che contiene tutto, quindi parentesi graffe, le chiavi come stringhe, e i valori, che possono essere stringhe, numeri, null, oggetti, array. In questo caso, questa è una stringa, questa è una stringa, questa è una stringa, e questa è classificata come numero. Ma le chiavi, di nuovo, sono tutte stringhe. Poi questo oggetto non ha solo la proprietà nome, cognome, indirizzo, ha anche la proprietà numeri di telefono, e i numeri di telefono hanno come valore, questa volta, invece, un array. E questo array è un array di stringhe, e quindi ci sono, in questo caso, due stringhe rappresentanti numeri di telefoni, separati da virgola. quindi questo è come si costruisce un array. Sono oggetti con chiave e valori, i cui valori possono essere di vario tipo, spesso saranno stringhe, a volte saranno numeri, altre volte saranno oggetti, o saranno array. E l'oggetto all'interno sarà di nuovo composto da chiave e valori, e così via. E non c'è un limite al numero di oggetti che possono contenere oggetti, che possono contenere oggetti, che possono contenere oggetti in un JSON. Quanti uno ne ha bisogno. Dato che JSON è un sottinsieme di JavaScript, ci sono metodi in JavaScript normale, quindi non specifici di Node e non specifici di Express, proprio JavaScript come linguaggio, per trattare oggetti e stringhe JSON. e i due metodi che torneranno utili anche in altri momenti saranno stringify e parse. Stringify prende un oggetto JavaScript e lo converte in JSON, quindi lo converte in una stringa che contiene la versione JSON dell'oggetto e lavora anche ricorsivamente su oggetti all'interno di oggetti, all'interno di oggetti, stessa cosa per gli array, escludendo ovviamente dall'oggetto eventuali proprietà, eventuali metodi, perché un metodo non ha un corrispettivo in JSON, in quanto non è una rappresentazione di informazione e esclude anche ogni valore che è undefined. Quindi ogni proprietà in un oggetto JavaScript che è undefined non viene attraverso il metodo stringify portata in JSON, come se non ci fosse, perché JSON non supporta il tipo undefined. parse fa l'operazione opposta, prende una stringa che rappresenta l'oggetto JSON, quindi una stringa che contiene questo, per esempio, scritto proprio come stringa e cerca di restituire un oggetto JavaScript che corrisponde alla stringa. Quindi, se noi passassimo questo, otterremmo al metodo parse, otterremmo un oggetto che ha come proprietà first name e valore John, last name Smith, address che avrà su interno un altro oggetto e phone number che avrà su interno un array JavaScript. Se volessi fare una deep code di un oggetto e non ti interessano i metodi, le proprietà undefined, potresti fare questa operazione per, come trucchetto, per fare una copia profonda di un oggetto, con dentro un oggetto, con dentro un array. Però ti perdi tutti i metodi e ti perdi tutte le cose undefined. Quindi, però, questi due metodi, stringify, oggetto, come dice il nome, stringify, converte in stringa, oggetto, stringa, JSON, parse, da stringa, faccio il parsing in un oggetto JavaScript, se va a buon fine, ovviamente. E questo è un oggetto JavaScript che viene creato, un oggetto normale, quindi quello che creereste con le parentesi graffe, non un oggetto che passa tramite una function construction, un costruttore, ma direttamente un oggetto standard nel linguaggio. e questo è JSON in realtà, perché è un file di testo nella maggior parte dei casi o una stringa quando non è in un file di testo. Qualche dubbio su questo, perché lo abbandoniamo e poi lo useremo. Vedete, sintassi abbastanza, sintassi quasi identica a quella di JavaScript, differenza che non c'è l'undefined, non ci sono le proprietà, non ci sono i metodi ovviamente, essendo un file, ma è che le stringhe vanno scritte obbligatoriamente con la doppio apice, quindi con la virgoletta doppia. Il resto sembra scrivere un oggetto in JavaScript normale. Ed è testo, quindi si fanno poi eventualmente ogni operazione che voi potreste fare sul testo. Quindi questo è il che cosa possiamo passare. Passiamo oggetti di tipo JSON avanti e indietro via HTTP come corpo della risposta o come corpo della richiesta quando vogliamo creare per esempio un nuovo oggetto. A quali URL le passiamo? Allora, queste slide sono ispirate, visto che qualcuno lo citava prima, a un metodo che è una rappresentazione che è appunto REST. Non la seguiamo in maniera fedele e puntuale, però sono fortemente ispirate a quello. E quindi, in quanto è una pseudo standard, diciamo, quantomeno uno standard de facto nel mondo della programmazione web e in generale della programmazione in cui bisogna esporre delle API su HTTP o su altri, specialmente su HTTP. Allora, noi definiamo due tipi concettualmente di URL. Una URL che rappresenta una collezione di risorse, dove la risorsa è quella che abbiamo detto prima in ottica HTTP e l'elemento, quindi la singola risorsa. Allora, la collezione l'andremo a scrivere come nome della collezione plurale, perché è un insieme di, quindi un insieme di studenti, un insieme di corsi, eccetera. Il singolo elemento invece lo andremo a scrivere come collezione slash identificativo di quell'elemento. Quale identificativo dipende dalla collezione specifica. Nel caso degli studenti un identificativo potrebbe essere la matricola. Nel caso dei corsi un identificativo univoco potrebbe essere il codice del corso. Quindi un qualche identificativo che ci rappresenta un oggetto specifico all'interno di una collezione. Quindi url avrà http localhost qualunque roba .it .com .org slash se vogliamo rappresentare l'intera collezione di oggetti nome della collezione plurale se vogliamo invece rappresentare il singolo individuo di quella collezione nome della collezione plurale slash identificativo di quell'individuo. Cerchiamo di usare nomi non verbi e concreti quindi corsi studenti domande risposte non cose oggetti quindi nomi più concreti possibili. E a ognuna di queste collezioni o individui che vogliamo fare delle operazioni associeremo poi un metodo http corrispondente e questo metodo http corrispondente dipende dal tipo di operazione che vogliamo fare quindi se vogliamo aggiungere un elemento a una collezione se vogliamo cancellare un elemento da una collezione se vogliamo aggiornare un elemento da una collezione e così via o recuperare un'intera collezione o recuperare un elemento da una collezione quali sono questi metodi quando vogliamo recuperare un'intera collezione beh questo possiamo arrivarci da solo se vogliamo recuperare un'intera collezione che metodo http useremo più forte get se vogliamo recuperare un singolo elemento della collezione sempre get quello che cambia è che la url non sarà più students ma sarà students slash s12345 ma sarà sempre una get se vogliamo aggiungere che metodo http useremo post se vogliamo aggiornare se vogliamo cancellare così quello che cambia è per la get esattamente come abbiamo detto vogliamo l'intera collezione faremo una get su slash students è definita lì se vogliamo un singolo elemento faremo una get su slash students slash s1234 se rappresentiamo gli studenti del Politecnico se vogliamo aggiungere uno studente alla collezione faremo una post sulla collezione non possiamo fare una post sull'individuo perché non c'è lo stiamo aggiungendo alla collezione quindi non c'è all'interno della collezione se vogliamo aggiornare un individuo all'interno della collezione faremo una put sull'individuo specifico perché l'individuo c'è ed è la risorsa singola che vogliamo aggiornare se vogliamo fare una delete la faremo opzione A sull'individuo opzione B sulla collezione dipende una brutta risposta cos'è più safe cancellare un'intera collezione o cancellare un individuo cancellare un individuo tipicamente aspetta vediamo fammi vedere se c'è una tabella intera ci arrivo allora è sconsigliato è possibile ma è sconsigliato allora azione sulle risorse su una collezione una get prende tutti gli elementi della collezione su una post aggiunge un nuovo elemento alla collezione una delete e una put sulla collezione formalmente sono possibili però sono sconsigliate la put perché perché vorrebbe dire aggiornare tutte le risorse di tutta la collezione che sembra un'operazione un po' anche poco frequente e una delete è un'operazione potenzialmente pericolosa se per sbaglio cancello tutta se ho la possibilità di cancellare tutta la collezione mi sbaglio e faccio c'è un errore e faccio invece che delete l'individuo faccio delete la collezione dato che la vorella avrà collezione e poi dopo l'individuo quindi se ometto l'individuo andrò a cancellare tutto e poi non c'è un revert come in http perché una volta che la richiesta è fatta arriva la risposta ok quindi è un'operazione pericolosa e tipicamente nel mondo web si evita si cancella il singolo elemento se voglio cancellarmi n mando n richieste di cancellazione da un'applicazione web specialmente stessa cosa per la put anche perché la put agisce anche la delete agiscono all'interno della singola risorsa quindi aggiornare la collezione vorrebbe dire aggiornare tutti gli elementi di tutte le risorse che di nuovo è un bulk update abbastanza particolare quindi se noi abbiamo questo esempio questa risorsa dogs la get ci darà la lista di tutti i cani all'interno di quella risorsa la post ci creerà un nuovo cane all'interno della risorsa la put e la delete le evitiamo al più che possibile ma ci aggiornerebbero tutti le risorse cane all'interno di quella risorsa o ci cancellerebbero tutti i cani all'interno di quella risorsa e risorsa dogs slash 1234 la get ci mostrerà le informazioni specifiche rispetto a quella risorsa la post ci darà errore perché non è prevista che ci sia una post di creazione su una singola risorsa la put se esiste aggiornerà l'intera risorsa e la delete cancellerà l'intera risorsa identificata da quello specifico id 1234 cosa ci restituiscono questi oggetti se per esempio usiamo la guida di design dell'API di Google come esempio allora Google cosa fa? innanzitutto definisce che questi metodi get, post, eccetera in codice loro tendono a chiamarli in questo modo quindi quando voglio tutte le risorse il metodo si chiamerà list invece che get all quando voglio una singola risorsa sarà una get quando voglio creare il metodo si chiamerà create something update e delete e mettono una richiesta e questo è di nuovo praticamente identico a rest come funziona in questa parte qui sulle risposte e sulle richieste c'è la risorsa solo con una post e una put anche se potrebbe esserci con la delete e nella risposta restituisce una risorsa per le get le post e l'update non restituisce nessuna risorsa per la delete e per tutte la collezione restituisce una lista di risorse quindi un array di risorse nel formato JSON quindi questo è un qualcosa che potremmo anche noi prendere ispirazione e seguire quindi corpo della richiesta solo quando c'è una create un update e response body quasi sempre tranne nella delete e questa lista di risorse può sta ufficialmente dovrebbe essere la lista con tutto il dettaglio di tutte le risorse nella pratica a volte non c'è una lista con tutto il dettaglio di tutte le risorse ma c'è una lista con le informazioni essenziali un summary delle risorse contenute in quella lista quindi l'id e magari le proprietà essenziali ma non tutte 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 questo dipende dalla pratica dipende anche da che cosa stiamo andando a restituire così come a volte il create e l'update non restituiscono la risorsa creata aggiornata ma restituiscono un'altra risorsa che rappresenta che l'operazione è andata a buon fine però restituiscono qualcosa cosa capita se ci sono delle relazioni tra risorse per esempio io vorrei avere un API una URL che mi rappresenta gli studenti iscritti a questo corso quindi ho una collezione corsi ho un individuo questo corso e poi ho un'altra collezione studenti quindi non voglio tutti gli studenti del Politecnico voglio solo quelli relativi a questo corso allora quello che si fa è semplicemente continuare a concatenare dopo l'individuo quindi se voglio tutti gli studenti di questo corso la URL sarà courses slash l'identificativo di questo corso slash students e quello mi darà tutti gli studenti iscritti al corso identificato con quello identificativo viceversa se io volessi tutti i corsi seguiti o nel carico didattico di un determinato studente avrei un URL che è student slash matricola di quello studente slash courses e quelli sono solo i corsi che sta frequentando o cui è scritto quello specifico studente quindi concatenando la collezione dopo la dopo l'individuo specifico posso posso anche avere ovviamente un modo per cercare risorse più complesse e questo a quel punto lo faccio con un parametro quindi punto di domanda qualcosa uguale a qualcos'altro e qualcosa uguale a qualcos'altro e qualcosa uguale a qualcos'altro dipende quanti parametri ho bisogno in questo caso è un esempio dalle vecchie pi di twitter che per prendere gli stati gli chiedeva uno screen name e un count quanti se ne volevano i risultati in questo caso due e questi erano due parametri da passare a quella specifica richiesta e gli errori è bene comunicarli attraverso gli status code di http quindi 404 403 e così via e il corpo della risposta potrebbe contenere altre informazioni relative all'errore per esempio l'utente non esiste o più informazioni a questo indirizzo o quant'altro quindi informazioni aggiuntive che l'applicazione client potrebbe prendere e decidere di visualizzare utilizzare in qualche modo non è ovviamente responsabilità del server decidere che informazioni il client andrà a usare ma solo fornire quelle informazioni quando gli vengono richieste ora noi proveremo a progettare delle API alcune in base al tempo che abbiamo però poi il meccanismo è più o meno lo stesso e se volete di nuovo Google fornisce una guida di progettazione delle API su come loro hanno progettato le loro API per i servizi web che può essere interessante dargli un'occhiata se volete approfondire su questi aspetti come le facciamo in Express sono normalissime richieste HTTP sono normalissime route HTTP l'identificativo della risorsa sarà un un parametro all'interno della URL le richieste dovranno avere questo Express.json come middleware applicato a tutte perché noi ci aspettiamo sempre dati in json e invieremo sempre dati in json quando dobbiamo fornire una risposta e quindi useremo sempre res.json e poi bene ed è scritto tre volte la stessa identica cosa e poi sempre bene ovviamente validare i parametri di input che arrivano quindi le richieste che arrivano nel corpo eventuali parametri nelle URL e quant'altro per essere sicuri di non andare a aggiungere o rimuovere o modificare elementi nel database che non sarebbero dovuti essere modificati quindi se io passo un oggetto che dovrebbe contenere una mail ma questo mail non c'è c'è un qualcos'altro al suo posto io sto andando se non faccio controlli sto andando a inserire nel database in un campo mail un qualcosa che non è una mail e quindi se poi agisco cerco delle mail per fare delle operazioni ovviamente lì in un metodo successivo ci sarà un errore così come se devo inserire un numero inserisco una stringa e poi quei numeri mi servono per calcolare la media ovviamente quando calcolo la media ci sarà un errore perché troverò 1 più 5 più ciao e quindi quella non funzionerà e un metodo successivo mi darà quindi problemi quindi bisogna sempre validare gli input quando arrivano a server e mai fidarsi di quello che arriva dal client questo in generale poi noi faremo anche la validazione del client per avere una doppia validazione però in ogni caso il server va sempre validato qui c'è un esempio adesso andiamo a lo faremo in pratica qui c'è un esempio di collezione di elementi con varie get post in express al netto della validazione quindi per esempio si potrebbe fare una get su answers che contiene tutte le le risposte e poi chiamare un metodo per il database che prende tutte le risposte e poi infine passarle in formato JSON indietro stessa cosa per il singolo elemento per la singola risposta e stessa cosa per il post in cui potremmo prendere e creare una risposta partendo una risposta partendo da il corpo che arriva dal client che ci viene fornito dato che noi non abbiamo un un'applicazione web al momento con cui testare queste API le API in get è facile testarle giusto? come testiamo le API in get? con che strumento usiamo testiamo le API in get? io faccio un server che risponde a una get su una route specifica come faccio a farla funzionare dopo che ho lanciato il server vedere il risultato che software posso usare per farlo? il browser semplicemente scrivendo la URL e vedendo il risultato nel browser la post il browser è in grado di fare post nativamente ma non dalla barra degli indirizzi serve qualcosa nella pagina la put idem e in realtà la delete il browser non è capace se non tramite javascript a fare una richiesta in delete e quindi comunque serve qualcosa nella pagina e allora per post put e delete si può usare un'estensione diviso studio code che si chiama rest client che permette di testare delle chiamate http scrivendo un file di testo e nel progetto che vi ho già condiviso nel processo di partenza che vi ho condiviso su github c'è già un file che si chiama test.http che contiene al suo interno due mi sembra chiamate http che si possono poi provare a fare appena avremo il server funzionante quindi con la sintassi richiesta da questo rest client come estensione ok domande? se no passiamo a l'esercizio che ci chiede di leggete in fondo soprattutto sì più grosso sì sì che ci chiede di di fare due cose alla fine di avere un server in express che risponda a delle chiamate http specifiche ma prima di quello definire un insieme di api http per ogni e noi inizieremo a farne alcune magari non tutte tutte per ogni operazione necessaria sulle nostre domande e risposte di prima dove le operazioni sono quelle che abbiamo esemplificato finora prendere tutte le domande prendere tutte le risposte prendere una specifica domanda prendere creare una risposta creare una domanda questo tipo di operazioni quindi operazioni crude sapete cosa significa crude? ok cosa significa crude? create, read, update, delete quindi quel tipo di operazione sui nostri due risorse gli oggetti non gli oggetti le domande e le risposte ok con e lo faremo in un file readme che c'è già all'interno del progetto che si chiama qa server question and answer server questo sarà poi volendo un readme che sarà molto simile al readme che dovrete poi produrre per l'esame quindi è già un esercizio in un certo senso orientato a a quello e è anche un modo abbastanza comune di rappresentare quelle informazioni di API e a quel punto dopo averle progettate le implementeremo in un modo così come la progettazione non ha una soluzione univoca ma può essere fatta in maniera diversa noi prenderemo una strada che troveremo coerente ok quindi prendiamo all'interno della cartella qa server il readme ecco cosa ha questa cartella qa server questa cartella qa server ha questo test HTTP che è quello che serve per questa estensione rest client che io ho già installato per cui ho questo send request che prova a fare una richiesta ha un file server che è vuoto e ha un qa models che sono i nostri oggetti domande e risposte dalla settimana scorsa identici a quelli della settimana scorsa senza i metodi perché i metodi ce li fornirà il server in questo caso con ecco un export per cui adesso abbiamo più file quindi questo export a riga 19 si chiama export con nome perché esportiamo due oggetti specifici question and answer che hanno un nome specifico che è question and answer quindi questo è un export e poi quando avremo bisogno di importarlo mi sembra in DAO lo facciamo si scrive in maniera duale a quell'export quindi import parentesi graffe le cose da importare in questo caso sono due ma se avessimo solo question da importare scriveremo parentesi graffe question chiusa parentesi graffa from il nome del file con estensione è importante dato che è un file di modulo quindi mjs avere l'estensione specificata se fosse un file javascript normale quindi solo js si potrebbe omettere l'estensione ma in questo caso è obbligatorio avere l'estensione che cosa ha questo DAO questo DAO ha essenzialmente le stesse query che abbiamo fatto l'altra volta più alcuni metodi vuoti per esempio list question è vuoto perché l'altra volta noi abbiamo creato una query per fare una select di tutte le risposte di tutte le domande dopodiché c'è un metodo che prende la singola richiesta la singola domanda che abbiamo fatto l'altra volta uno per aggiungere una domanda come abbiamo fatto l'altra volta uno per prendere tutte le risposte di una certa domanda e uno per aggiungere una risposta e poi altri due metodi vuoti di nuovo perché l'altra volta non l'abbiamo fatti uno per aggiornare una risposta e uno per votare una risposta quindi modificare quel campo score che c'è all'interno di una singola risposta non abbiamo in questo momento previsto in questo esercizio un metodo per aggiornare una domanda per esempio o per cancellare una domanda cancellare una risposta anche se ovviamente sono possibili da immaginare e si scrivono allo stesso modo quindi un file che contiene le varie query al database e restituisce un oggetto javascript rispondente a quelle query stesso oggetto della settimana scorsa quindi niente di nuovo fin qui quindi noi oggi principalmente lavoreremo su server che è il file vuoto in cui andremo a scrivere il server express ma prima andiamo a scrivere l'API progettare l'API di nuovo simile a quello che farete nel progetto per l'esame per esempio quando dovrete creare l'API del server quindi qui c'è un template che chiede un titolo la URL il metodo HTTP una breve descrizione il corpo della richiesta se c'è e il corpo della risposta se c'è e come si risponde quindi se non c'è il corpo della risposta si risponderà con 200K con un 404 not found con qualcosa ok facciamo la prima la prima potrebbe essere quella list all question quindi lista tutte le domande che URL usiamo in base a quello che abbiamo appena visto quindi qui ci sarà scritto HTTP nome indirizzo del server slash con l'S senza S finale con l'S quindi la collezione delle domande quindi questions metodo get descrizione cosa farà questa sì retrieve all questions ha un corpo della richiesta? sì o no? no perché è una get quindi addio ha una risposta sicuramente come risponde? innanzitutto quello è il corpo sì risponde con una lista di quindi risponde col body ma in aggiunta al body cosa ci può rispondere questa col codice che potrebbe essere se tutto va bene 200 ok nel caso di successo oppure nel caso in cui per qualche motivo non riuscisse a fare questa get quello potrebbe essere un codice d'errore 503 sì mi sfugge 503 in questo momento e della famiglia 500 sicuramente uno da usare in questo momento 500 eh? ok un errore della famiglia 5 comunque sì potrebbe essere 500 proprio il il generico 500 che dovrebbe essere sempre interno al server error anche 500 come errore generico perché in realtà non sappiamo bene che cioè è una select se non va a buon fine è perché probabilmente il database o comunque quello che sta sotto non riesce a fornire una risposta non ci sono informazioni che forniamo quindi generica error ok quale sarà la risposta iniziamo a scriverne un pezzo della risposta questa è una lista di domande quindi cosa ci sarà nella risposta in JSON un array di oggetti e quindi fin qui ci siamo e gli oggetti cosa avranno al loro interno? le proprietà di ridiciamo una alla volta le proprietà di di request ha delle domande si le proprietà delle domande che sono le stesse che abbiamo nell'oggetto javascript possiamo usare le stesse dell'oggetto javascript dell'altra volta quindi avrà un id facciamo finta uno avrà un testo che qual era la domanda è javascript meglio di python una cosa del genere e poi aveva un autore no aveva un'email e aveva una data giusto? mi sembra possiamo controllare controlliamo un attimo aveva un id un testo una mail dov'è? un id un testo una mail una data ok e poi questa è una lista ovviamente qui non andiamo a scrivercele tutte a mano se no domani siamo ancora qua quindi è un esempio di una possibile risposta quindi uno due elementi vanno bene poi si possono mettere puntini 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 per dire potenzialmente lunga e piacere ok però stiamo già definendo che uno sviluppatore che vuole utilizzare questi API deve mandare e riceverà un array con dentro degli oggetti e questi oggetti avranno esattamente quattro campi di cui tre saranno campi di tipo stringa e uno sarà un campo numerico quindi se deve costruire un'applicazione web usando questo ottiene queste informazioni quindi può decidere che informazioni gli servono ora noi per semplicità usiamo le stesse proprietà di un oggetto JavaScript ma nulla ci vieterebbe di dire per esempio che questo si chiama question anche se l'oggetto si chiama text e anche se nel database si chiama text non è necessario mantenere la perfetto allineamento tra l'API tra l'applicazione che faremo l'API e il database ci può essere disallinamento perché ognuno risponde a un'esigenza diversa l'applicazione risponde all'esigenza dell'utilizzatore che la usa l'API server risponde all'esigenza di quali dati vuole il server fornire e lo sviluppatore ha bisogno e il database risponde all'esigenza di contenere i dati in maniera efficace ed efficiente quindi nulla vieterebbe di cambiare anche qualcuno di questi parametri aggiungere parametri toglierli in base a quello che vogliamo fornire all'altro ovviamente se lo facciamo dobbiamo poi andare nel codice tutte le volte che c'è text creare un oggetto JSON che non abbia text ma abbia question quindi c'è un piccolo overhead in più rispetto a quello che che facciamo come sviluppatori del server quindi lasciamo pure text che ci evita di scrivere del codice ridondante in più per niente in questo momento però come concetto potrebbero anche essere diversi così come io qui potrei decidere di non dare la mail ma di dare anche il nome e quindi vuol dire che la query deve anche recuperarmi il nome della persona differentemente da quello che abbiamo fatto finora ok ok facciamone un'altra facciamo l'altra get quindi non lista tutte le domande ma prendi una singola domanda qual è la url slash id questa è documentazione in un certo senso quindi possiamo dire che quello è un parametro che sarà l'id ecco in realtà l'altra cosa che possiamo fare per renderlo più carino e aggiungere davanti a le collezioni API quindi API slash question questo perché nel nostro caso noi avremo un server che ha solo API quindi non cambia veramente niente ma se il server fornisse anche altre avesse anche altre route che non sono API almeno in questo modo c'è la distinzione tra quelle che sono le route che sono sotto API e quelle che invece non lo sono quindi aggiungiamo un API davanti per dire questa è la parte del server che per noi sarà il 100% che che sarà statico comunque questo API che fornisce API per per noi get a single question metodo sempre get descrizione si prendo la domanda rappresentato da ed risposta ci basta questo dobbiamo modificarla la risposta sicuramente se va tutto bene è 200k sicuramente se il server ha un problema col database è un interno è della famiglia 500 ci manca qualcosa o ci bastano queste due in questo caso un not found perché l'ID potrebbe non esserci quindi un 404 not found se l'ID è sbagliato sbagliato o sbagliato nel senso che l'ID è 5 ma nel database non c'è una domanda con l'ID 5 perché l'ID finisce a 4 per esempio o perché il 5 è stato cancellato ha una richiesta ha un corpo della richiesta come si è una get non ha un corpo della richiesta ha una risposta ha una risposta e la risposta è esattamente l'oggetto no? di prima quindi togliamo semplicemente l'array e quindi se noi chiediamo se noi chiediamo l'oggetto con ID 1 otterremo come risposta l'intero oggetto l'intera risorsa contenente anche quelli di ok facciamo una relazione adesso prendi sempre con la get prendi tutte le risposte di una singola domanda e poi poi facciamo magari una post o una put qual è la url di tutte le risposte di una singola domanda slash answers sempre plurale perché sono tante ok metodo sempre get descrizione prendi tutte le risposte della domanda rappresentata da ID e questa è una scelta specifica che facciamo il fatto il fatto di avere un API che abbia questa relazione è una scelta specifica che stiamo facendo che vi sto facendo fare perché concettualmente le risposte non esistono se non collegate alla loro domanda cioè non ci servono le risposte dammi tutte le risposte di che domanda non importa no? in genere vogliamo le risposte di una domanda però potremmo avere un API diversa per prendere tutte le risposte per esempio sì o no? se volessimo sì quale sarebbe la sua URL? Answers che prenderebbe tutte le risposte ha senso se ci immaginiamo un'applicazione web che gestisca domande e risposte non tanto perché avremo un elenco di risposte sparse senza un match senza la sua domanda specifica però potremmo immaginarci un API che abbia Answers e al cui interno dell'oggetto ci sia l'ID della in cui c'è nel database l'ID della domanda e quindi se io volessi avere tutte le domande tutte le risposte di una certa domanda potrei chiedere tutte le risposte tutte le domande e poi a livello di applicazione web fare un merge potrebbe aver senso potrebbe non aver senso probabilmente non tanto ma dipende da che cosa vuole fare l'applicazione web dall'altra parte ma è possibile avere un API per avere le risposte e poi all'interno dell'API che invece rispetto a una singola domanda vuole tutte le risposte vado a richiamare quella che ho creato all'inizio quindi diciamo una cosa cioè un API che richiamo un'altra che ho implementato tu nel server? sì no è difficile? no tu che chiami un'altra API no però tu che chiami il metodo che ha quell'API che chiama quell'altra API sì quindi esattamente uno potrebbe dire rompendo però il concetto di risorsa che e per quello che dicevo che la progettazione API ci sono tante strade con vantaggi e svantaggi che qui dentro io abbia un answers due punti un array con tutte le risposte di quella domanda quindi rompiamo un po' il concetto di risorsa perché questa non è più la risorsa domanda questa è la risorsa domanda più tutte le sue risposte però potrebbe essere una scelta di progettazione di API lecita per cui io voglio fornire la possibilità di avere la domanda con le sue risposte vantaggi e svantaggi di questa scelta rispetto per esempio avere la un'API separata o in aggiunta ad avere un'API separata ovviamente se voi avete le risposte qui l'API separata non serve più sembra ridondante quindi ok quindi noi al momento togliamola questa perché non è neanche non rispetta la risorsa HTTP però potrebbe essere una scelta che qualcuno fa dire dato che le risposte non esistono senza domanda restituisco anche tutte le domande tutte le risposte associate a una domanda o magari ho una GET per una singola domanda è una GET per la singola domanda con tutte le risposte quindi è quello un parametro in più che passo slash questions slash 1 punto di domanda answer uguale all e quindi in quel caso mi passo anche tutte le risposte dipende dipende dall'applicazione che uno eventualmente emette nel lato client dipende da dei requisiti che uno potrebbe avere e dipende che cosa uno vuole fornire per semplicità agli altri questa è una strada sicuramente che rispetta la risorsa di per sé questa che stiamo facendo eravamo alla relazione dette tutte le risposte c'è qualcosa da cambiare nel codice d'errore della risposta nella relazione tutte le risposte di una singola domanda se sì che cosa se no andiamo avanti allora che cosa può andare male qua può andare male un problema è server giusto e quindi ce l'abbiamo già un errore niente può andare tutto bene e abbiamo già il 200k oppure quest'id può essere sbagliato e ce l'abbiamo già non ci sono altri elementi perché non c'è un altro id dentro per esempio quindi ci basta questo qual è la risposta qual è il response body non è questo ovviamente è un array con tutte le risposte di nuovo id uno text forse potevo non cancellare davvero tutto yes qui c'era di nuovo email cosa era? Luca.mannella e poi c'era score meno 10 e data che era 2024 beh deve essere sicuramente dopo la diciamo 08 e poi le altre se ce ne fossero altre tutte le risposte di quella domanda quindi le risorse risposte associate a quella domanda ok ok facciamo una post quindi crea una nuova risposta per una data domanda ok qual è la url per creare una nuova risposta a una data domanda e quello è il metodo post sì la url no non possiamo aggiungere slash id alla risposta perché la risposta non ce l'abbiamo ancora perché la stiamo aggiungendo no? la stiamo creando quindi creandola non abbiamo ancora il suo id se pensiamo che l'id lo dà il database ovviamente non ce l'abbiamo in questo momento no? c'è già no così niente slash new no? se noi seguiamo la logica collezione identificativo collezione new non è niente non è una collezione non è identificativo quindi abbiamo detto per creare è una post alla collezione la collezione in questo caso è answers e dato che per una singola domanda ci teniamo anche qual è quella domanda nella url vogliamo aggiungere una risposta a quella singola domanda e allora l'id della domanda ci serve di nuovo url alternativa poteva essere slash api slash answers senza portarsi dietro quest'unid però a quel punto avremmo dovuto passare nel body anche l'id della domanda a cui aggiungerla perché una risposta ha bisogno di una domanda associata metodo post descrizione add create a new answer alla domanda rappresentata da abbiamo un request body o no sì quale sarà il request body non so cosa sto facendo quale sarà il request body cosa mandiamo la risposta da aggiungere quindi fammi copiare una risposta questa quindi l'id non l'avremo giusto perché ce lo segnerà il server quindi in questo momento non l'abbiamo avremo una risposta che potrebbe essere la risposta a un'altra domanda c'erano due domande nella database una era questa di è già scritto meglio e l'altra era quanti studenti ha il corso a questo corso e quindi un'altra risposta potrebbe essere l'anno scorso aveva circa 200 iscritti di prima iscrizione possiamo lasciare che l'ha inserita sempre la stessa persona e mettiamo la data magari a oggi che è il 26 quindi l'oggetto da aggiungere senza id perché le dice lo darà il server ok risposta cosa ci aspettiamo come risposta come codici di risposta 201 created mi sembra meglio poi 404 not found ci sta ancora perché c'è un id di una domanda se io voglio aggiungere una risposta a una domanda inesistente è giusto che mi dica 404 e possiamo mettere 503 in questo caso che c'è un valore un po' più specifico che è service unavailable ma anche 500 unavailable che è un errore generico qui possiamo avere un errore in più perché abbiamo un buddy della richiesta cosa abbiamo detto che è bene fare quando c'è un corpo della richiesta abbiamo detto che il server è bene che lo lo validiamo quindi se la validazione non va a buon fine o se questo buddy non è un json ma è è scritto ciao abbiamo un buddy e questa richiesta è scritto ciao non è sicuramente not found non è creato si potrebbe essere un generico service unavailable ma non è un errore del server perché il buddy della richiesta è sbagliato quindi se il buddy della richiesta non è valido 422 che è unprocessable entity quindi entità l'entità non è processabile perché io mi aspetto un buddy in un certo modo con certi campi e tu mi mandi una roba diversa questo è un validation error ok il corpo della risposta qui possiamo fare varie scelte possiamo fare varie scelte includo non averlo perché la post non è obbligatoria avere un quindi tu dici l'id l'id creato quindi l'id dell'oggetto creato come corpo oppure niente abbiamo detto o tutto e cosa preferiamo tutto vuol dire che restituiamo tutte le informazioni che abbiamo appena passato l'id ok va bene a tutti l'id in realtà l'id lo possiamo passare nel ladder quindi qua mettiamo non nel ladder della risposta quindi qui mettiamo non e success with id segniamoci che ci sarà che nella risposta ci sarà l'id della risposta che arriva indietro mi sembra che possiamo crearlo nel ladder vabbè in ogni caso torneremo l'id creato questo dobbiamo ricordarci quando lo faremo ok direi che non ne facciamo più che altre piaci mancherebbero ci mancherebbero l'aggiornamento di una risposta e quale url useremmo che metodo usiamo per l'aggiornamento put su quale url lo facciamo l'aggiornamento di una risposta answer se basta slash id certo perché dobbiamo aggiornare sì quindi non ci portiamo dietro question id perché in questo caso andiamo a aggiornare la singola risposta non ci interessa più il map della domanda e poi ci serve il vote quello per votare lo score che è un più uno se vogliamo aumentare lo score o meno uno se vogliamo diminuirlo quindi aggiungiamo questa logica invece di passare 15 come score possiamo solo aumentarlo o diminuirlo lo score con un più uno o meno uno quindi sarà una post un po' diversa dalle altre sarà una post su api slash quest slash answer slash id slash vote che è un'azione non è un un oggetto un'entità una collezione perché non c'è una collezione vota no quindi quello che potremmo fare è attraverso la put aggiornare lo score ma bisogna passare l'intero oggetto oppure potremmo abbiamo detto usare la patch ma è un metodo che non che cerchiamo di non usare rimaniamo con i metodi standard per fare un aggiornamento parziale oppure se volessimo abilitare una funzione tipo vota incrementa decrementa quindi qualcosa di specifico possiamo invece di usare collezioni identificativo in quel caso come diceva lui invece di usare new che in quel caso non serve perché la posta su una collezione fa già una news di suo abbiamo qualcosa di diverso dal creare aggiornare cancellare eccetera come vota che non è mappato possiamo usare vote come parte finale dell'url e nel body passare più uno o meno uno in base a quello che vogliamo votare ok proviamo a scrivere un pezzo di questo server in dieci minuti allora io qui ho già un progetto in cui è installato solo DJS e SQLite quindi cosa ci serve da installare express npm install express io nodemon dovrei averlo già installato adesso proviamo sì ma nodemon installato a livello globale del sistema operativo quindi npm install meno g nodemon e lo installa a livello globale in modo che qualunque progetto da oggi in poi potete direttamente utilizzarlo esattamente come scrivete node quindi senza installarlo volta per volta e poi ci serve anche morgan abbiamo detto per il logging quindi npm install morgan bene quindi qual è la prima cosa che dobbiamo fare in questo server importare importare express quindi import express from express e poi importiamo anche morgan from morgan che è il nostro modulo di logging poi quindi questi sono import poi la seconda cosa che dobbiamo fare il setup del server quindi init quindi abbiamo detto const app uguale express e poi potremmo anche definire una costante che rappresenta la porta che diciamo essere 3001 così se dobbiamo cambiare porta abbiamo un punto unico dove farlo poi qual è l'ultima cosa che dovremmo fare in questo in questo file l'ultima in fondo saltiamo un attimo il list quindi far partire partire il server quindi app.list la porta e poi la callback la callback possiamo semplicemente scrivere api server started ok in mezzo cosa dobbiamo fare? dobbiamo fare due cose una sono le le route e l'altra sono i middleware che middleware ci serve da utilizzare per l'intera applicazione abbiamo detto e morgan per il log e poi json perché ci serve perché ci aspettiamo tutto in json e dobbiamo fornire tutto in json quindi quindi app.use json non maiuscolo che va anche importato quindi import express virgola aperta graffa json e app.use morgan morgan nel metodo vuole vedete che c'era scritto aspettate voglio farlo comparire qua vuole un parametro che dice qual è il livello di log che vi voglio far vedere dove tiny è il più breve che può utilizzare e combined common sono più ampi noi possiamo scegliere dev che è quello che mostra tutte le informazioni necessarie allo sviluppo ok e a questo punto possiamo fare la nostra prima route la nostra prima route se rispettiamo le nostre api è quella per prendere tutte le risposte giusto? tutte le domande quindi è una get su api slash questions come la scriviamo questa route app punto get allora il primo parametro è la url quindi slash api slash questions il secondo parametro è la callback che ha due parametri request e response che potete chiamare come volete nelle slide erano rec res esplicitiamola la prima volta come request response così ci ricordiamo poi potete chiamarle anche a e b se è chiaro per voi che cosa sia ed è chiaro per tutti e cosa deve fare questa api quindi quando ricevo una richiesta da api question quindi sarà una get senza body cosa devo fare sì bisogna passare indietro la risposta di tutte le domande e questa questa risposta queste tutte le domande dove sono nel database e quindi c'è questo file dao che ha un metodo che si chiama list question che è vuoto in questo momento quindi andrà da scritto che sarà un metodo che torna una promise quindi qui cosa scriveremo list question questo torna una promise quindi punto den fatemi andare a capo con questo punto den quindi questa tornerà tutte le domande e quindi questa sarà response punto json di questions se avremo già un oggetto question che arriva da quel metodo sarà un oggetto javascript punto json converte l'oggetto javascript in json e invia con status code 200 automaticamente impostato e abbiamo però detto che c'era un caso di errore giusto poteva esserci giusto come lo specifichiamo l'errore punto catch e qual era l'errore 500 internal server error quindi catch se vogliamo solo tornare 500 ci basta una callback vuota in cui è response punto status 500 come numero punto end in questo caso ci serve il punto end perché punto status imposta lo status ma non fa nessuna operazione di invio quando c'è l'invio send json fanno automaticamente punto end quando non c'è bisogna esplicitare punto end se no il server rimane bloccato in attesa che la risposta venga completata quindi col punto end si dice è completata inviala ok cosa farà poi questa query giusto per avere qualcosa da provare fatemi copiare questa sotto tanto più o meno sarà simile questa è prendo tutte le domande quindi select tutte le domande da question col join con lo user questo non ci serve più perché le voglio tutte questo non ci serve più se c'è un errore facciamo un reject non può essere undefined perché non c'è una singola oggetto da recuperare questo è rose cosa facciamo nel resolve dobbiamo tornare tutte le domande quindi abbiamo rose con tutte le domande ma dobbiamo tornare un oggetto question quindi resolve facciamo quello che facevamo nelle risposte rose.map e per ognuna creiamo un oggetto corrispondente ovviamente non di risposte ma di domande quindi questo è const questions ro.map new question q.id q.text q.mail q.data e non c'è lo score e a quel punto e a quel punto facciamo un resolve di questions e bene o male le query saranno sempre così saranno sempre più o meno la stessa cosa quando dobbiamo farne tante ci sarà una map quando c'è una select asterisco ci sarà una map esattamente come per le answer eccetera sì bisogna importarlo e lui è abbastanza furbo da spesso da farlo da solo io quando ho scritto list question ha visto che c'era un altro file nel progetto è visto studio code e mi ha aggiunto quella riga da solo però sì se non l'ha aggiunta bisogna importarlo sì e ovviamente in dao ci deve essere l'export ecco in dao come sono esportati questi non sono esportati in fondo come nell'altro come in qua models ma sono esportati uno alla volta con export const o let e la funzione quindi ognuno ha il suo export perché se no scriverli qui vorremmo dire scrivere export aperta graffa è un lungo elenco di funzioni quindi era più comodo scrivere export a fianco a ogni funzione che vogliamo esportare è equivalente come funzionamento è solo un modo diverso di scriverlo quando ci sono tante cose è più comodo ovviamente fare così tante cose da esportare tutte ok quindi se noi adesso proviamo a lanciare questo con nodemon server se noi adesso non avessimo fatto un pasticcio potevamo lanciare quello ma allora se noi adesso andiamo dentro la cartella giusta e reinstalliamo quello che ci serve perché l'ho installata fuori dalla cartella e lanciamo tutto dalla cartella giusta vedete nodemon parte e vi accorgete che nodemon parte perché vi dice nodemon path extension eccetera starting node e se noi adesso aprissimo un browser e andassimo su localhost 3001 slash api slash questions e sistemiamo i bug riga 21 ho modificato la riga sbagliata bravo ok lo vedete appena salvo riparte nodemon quindi non c'è bisogno di far ripartire il server e se e dai sempre riga 21 mappi not a function ma lo è deve essere non ho sentito scusami hai ragione ho fatto copia e incolla ma non ho se no prendeva solo la prima e quindi giustamente non riesce a non è un array non può fare la mappa ok e se lo eseguiamo e stavolta funziona quindi va bene fare copia e incolla ma bisogna farlo più ragionati come ho fatto io e questo è quello che il server ci ritorna che sono i due json come ci aspettavamo la data è da formatare un po' meglio perché ci porta dietro la data l'ora anche e e la visualizzazione perché c'è un plugin in chrome che lo visualizza in questo modo voi probabilmente lo visualizzate così quindi sono equivalenti comunque un json è un array di json che è esattamente quello che ci aspettavamo ok allora come la settimana scorsa quello che farò è completarlo un pochino vi aggiungo qualche metodo vi aggiungo qualche anche route nel server così che abbiate un esempio un pochino più completo però è esattamente quello che abbiamo fatto oggi solo facendo copia e incolla ragionato quindi senza dimenticarsi punto all invece di punto get e quant'altro così avete un esempio un po' più ragionato giovedì ovviamente non c'è laboratorio perché c'è sospensione dell'attività didattica martedì non c'è lezione perché siamo sempre in sospensione dell'attività didattica giovedì prossimo ci sarà un laboratorio su queste cose quindi sulla creazione di un server di API in Express non per le domande e risposte ma per i film che quindi un solo oggetto che è l'oggetto film invece di avere l'oggetto domande e risposte quindi un po' più semplice da un certo punto di vista ok se avete domande sono ancora qua a 5 minuti se no c'è il gruppo Telegram altrimenti buona Pasqua e ci vediamo fra due settimane grazie grazie grazie